In nome e per conto del segretario del fronte di liberazione nazionale, porgo per procura i distinti saluti a tutti coloro che impediscono il regolare svolgimento dell'azione politica nella nostra amata patria. Firmato Nicola Franzoni. Firmato in umido. Ecco qua, per la sindaca di Rotra di Papa. E' protocollata la cosa, ci vuole un po'.